Io sono Ignacarius, Gigantarino, Rex e l'esperso Ferentis, ma il mio amico umano mi chiama Smulder. Benvenuti nella landa degli Evocatori. Vedi qualcosa di divertente lassù? Trenta secondi alla generazione dei Mignoni. Oh, li troverò. Ti piace, vai. Vedi qualcosa di più. marino se dice che nessuno crede più ai draghi imperiali però non vuole che mi faccia vedere devo tenere gli artigli pronti come dice sempre mamma un nemico è stato ucciso C'è odore di persone C'è odore di persone C'è odore di persone Un nemico è stato ucciso C'è odore di persone 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un nemico è stato ucciso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti